ciao ragazzi questa è la caccia alle uova in televisione occhio alle prossime immagini perché vi sveleranno i nascondigli delle uova appena li avete riconosciuti correte a prenderli tocca a matilde e dopo tocca a te nicola occhio matti a riconoscere qual è questo posto della casa dove siamo qua ti è venuto in mente vai 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 apriamo l'armadio è proprio quello c'è una cosa che di solito non c'è vedo qualcosa delle surprise il portale salotto adesso tocca a nicolò vai che posto è questo l'ha riconosciuto sembrava un'astronave invece il forno si cosa c'è dentro un uovo vediamo molto grande delle lamborghini lo scopriremo tra poco ecco mate il tuo turno vediamo che posticino spunta dove siamo qua la tua cameretta andiamo andiamo vai 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 di corsa guida la libreria le miracle tunes puoi trovare giulia andiamo a vedere e ora tocca di nuovo a nicolò dove sarà questo posto misterioso potrebbe essere qualsiasi porta l'ha riconosciuta quale porta sarà ah gli è venuto un dubbio è questa facci vedere cosa hai trovato è l'uovo dei gormiti dei gormiti si andiamo a portarlo sul divano tocca a me tocca a mati chissà dove sarà questo posticino dove siamo qua cosa dici sembra ma non è andiamo a controllare controlla controlla è il bidet si brava chi ci sono le principesse ma è quella rosa a te piacerebbe trovare quella rosa giusto cenerentola biancaneve chissà chi troveremo adesso tocca a nicolò nicolò è pronto scattante vediamo se riconosce questo posto misterioso della nostra casa dove siamo dove siamo un altro scarico eccoci è arrivato un suggerimento vediamo se è il suggerimento giusto è la doccia si è la doccia cosa abbiamo trovato una ducati c'è proprio c'è una sorpresa sgomma in salotto vai tocca a mati vai vediamo se riconosci il prossimo posticino ancora ancora uno scarico una doccia un'altra doccia ne abbiamo due ne abbiamo due non è questa mati è quest'altra andiamo andiamo è peppa pig è peppa pig sul divanoiat certi pandici adesso tocca di nuovo a nicolò scattante è pronto è scattante quando partire un altro scarico un altro pagno andiamo è l'altro bidet l'ho riconosciutoq Cosa hai trovato? Controlla controlla È l'uovo di Dragon Ball Scattiamo Ah l'è finito il programma Continua vai Mati Sotto Sotto dove? Andiamo I pigiamini Portiamoli sul divano E' scattante è pronto Che posto è questo? L'ha capito È la poltrona del papà e della mamma I pigiamini Super Moon Adventure La nuova serie Ed ecco tutte le uova che abbiamo trovato Le apriamo Le apriamo adesso Da cosa inizi Nicolò? Dalla Lamborghini dalla prima Tu Mati quale vuoi aprire per primo? I pigiamini In riga così Servono le forbici ragazzi? No E io ero già pronto Mati ti servono le forbici? Sì Eccole Qui si può slacciare tutto infatti Qui invece l'aceto ha bisogno delle forbici Aiutata aiutale Ecco Ecco che qua è già arrivato l'uovo C'è un buco? C'è un buco? Qualcuno sta già approfittando del buco Si vede qualcosa? Ah qualcosa si vede E questo invece è intero Vai Mati Ragazzi Che apertura di coppia Qua abbiamo trovato le mattite Di Dragon Ball credo E i disegni Qua invece cosa abbiamo trovato? Gli occhiali da sole Gli occhiali da sole Sono di Gekko? Sono verdi? E poi abbiamo trovato anche la cioccolata Che assaporiamo Assaporiamo Assapori... Anch'io ragazzi Fatemi assaggiare Ok Confermo che è buona C'è Goku C'è Goku C'è Vegeta Da colorare Con i pastelli C'è tantissimi qua dentro Piove cioccolata dappertutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 12 E c'è anche il temperino Wow Questo ci torna utile a scuola Dove i temperini Nicolò? Non sono mai troppi Esatto Si rompono sempre Perché temperiamo 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 Proviamo gli occhiali di Gekko Muscoli da Super Gekko Wow Belli E rosa Manca la prova di colore Matilde va con rosa Allora io prendo il rosso E coloriamo Quale sarà il prossimo uovo? Peppa Pig E il prossimo uovo di Nicolò? I gormiti I gormiti Qua ci sono tutti i personaggi di Peppa Qua Nicolò sta armeggiando il laccetto Questo è già aperto Già aperto? Cosa c'è dentro? Sono curioso C'è Peppa che voleva uscire Occhiali I occhiali di Peppa Facciamo la coppia E Matti sta preparando i pezzettini E i pezzettini poi li assaggiamo E poi indossiamo gli occhiali Sopra gli altri occhiali Nuovo look Non vediamo ancora i gormiti Ma sono super potenti Vai Nicolò Che forza Un lanciatore Un lanciatore Una trottola Apriamola E cioè prima assaggiamo E poi apriamo Via la carta È una gomma gigante Dai la carica Via È partita Occhio Ah una ruota pazza Non finisce più Il trucco è capire da che parte andrà avanti Mi dico che Mike farlo per terra È vero potremmo fare una prova sul pavimento Sì Pronti al lancio? Vai Uh è partita Prossimo uovo Matti Quello delle LOL L'ovo delle LOL Io il Lamborghini Um Continuiamo con la velocità Salutiamo Rocker Ciao Rocker Chissà cosa troveremo all'interno Ciao Sono curioso Um um Sento già sgommare Che colore volevi trovare Verde Quella verde Vedremo che macchinina troveremo Qua l'uovo è bello intero Qua l'uovo è bello intero Apertura di coppia Matti Cos'hai trovato delle LOL? Gli orecchini? Vedete? Sì Sono gli orecchini Tu hai trovato una macchina Che colore allora? Forse è nascosta È nascosta Vediamo Vedo tutto nero Mi serve un po' di cioccolata Mentre aspetto Ci sei? È giallo È la mitica Miura E questo è anche proprio il display Per appoggiare il modellino Vengo con la macchina a vedere Sul display Gli orecchini Che sono di Royal High Knee Facciamo una prova d'indosso Qui ho visto un po' di cioccolato Sul nasino Le maglie Le maglie Un po' dappertutto E qui l'altro Voilà Abbiamo ancora due uova E ringraziamo i dolci preziosi Per averci mandato tutte Queste uova E io Miracle Tunes Vai con le Miracle Tunes Ducati Vai con la Ducati Vai con l'acetto di qua Eccolo qua Qua già troviamo la moto Rossa Ecco qua il modellino È rossa sì Come il colore preferito di Nicolò La apriamo tra un attimo Per ora andiamo all'uovo E all'apertura di coppia Vai Pugnetti Pugnetto di qua Pugnetto di là Non c'è niente È bene È già trovata prima La sorpresa già c'era C'è la cioccolata E qui abbiamo trovato Le matite delle Miracle Tunes E immagino come Dragon Ball Anche i disegni Sì Tiriamo fuori la moto dal garage Vai Questa moto C'è scritto sopra Del 1988 Per un piccolino Ale Da Qui invece stiamo già disegnando Abbiamo aperto i 12 colori Abbiamo scelto il rosa È molleggiato È anche molleggiata Sì All'armotizzazione C'è neanche il cavalletto Ma va È un super modellino questo Sì Vediamo se riusciamo Con un cacciavite A liberarlo Svita 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 Eccola Abbiamo anche liberata Ho già provato due Ci ha fatto due Mati Hai fatto anche Benji Bravissima E adesso stiamo sistemando Tutte le matitine per bene Brava Mati Per andare a prendere L'ultimo uovo Aspetta che ti aiuto Io parto adesso Vai Facciamo gara Macchina Sì Arrivata la Lamborghini E il PJ Mas Qui siamo arrivati Alle principesse Balliamo Andiamo La moto è arrivata Ma in ritardo Arrivata adesso La moto Forza che le principesse Sono già partite L'uovo è intero Mati Bricciamo Sì è intero Ah L'annusiamo Perché questo è intero Vediamo Sì Apertura di coppia E ti sali dei lupetti Hai trovato i lupetti Vediamo I nuovi personaggi Wow Sofì ha un diario Segreto di Sofì Dai Sofì è la principessa Tanto di chiave Di lucchetto Mati No che carino È proprio mia Sì è proprio tua Vediamo cosa c'è dentro Ho due gufette Un gecko Due gufette Un gecko Da lunetta Da colorare Mentre il lucchetto Glitter anche lui E voi cosa avete trovato Un blocchetto Per scrivere i segreti Com'è la cioccolata Pigiamina È buona È buona E quella principesca Mati Molto buona Direi Apriamo le matite E scriviamo Un messaggio segreto Attenzione È così segreto Che non ve lo possiamo dire Vero Ale È segretissimo Sofì è scritto Non dovevamo dirlo Chiudiamo con il lucchetto E adesso non si apre più È la mia chiave E girando la chiave Certo che si è aperto Si è aperto Guarda Sì funziona E possiamo scrivere altri messaggi Questa volta però Mati il messaggio Non lo diciamo nessuno Massimo Silenzio Saremo così segreti Che andiamo a vedere Niccolò Che sta colorando Gecko E non sbirciamo No No come L'abbiamo scoperto Ha scritto Matilde Niente oggi Non riusciamo a essere segreti ragazzi Leggete No non possiamo leggere È segreto Mati No No Non indovinare Niccolò Ale non indovinare Potete ascoltare anche i miei segreti Sì Possiamo ascoltare i segreti Devi aiutarci Mati Tf Tf No Scritto Gbr C'è scritto Gbr Scritto Gbr Grande Mati E ora tra orecchini ed occhiali È arrivato il momento di scegliere la sorpresa preferita del giorno Mi è piaciuta la moto La moto La macchina Dov'è? E i pigiamini Facciamolo uscire dal garage A te Mati cos'è piaciuto di più? Temperino Il temperino per temperare La cioccolata che vedo in giro sulla felpa Anche Il diario Il diario segreto di Sofia E come sempre ragazzi Fateci sapere anche voi Nei commenti a questo video Qual è la vostra sorpresa preferita E se questo video vi è piaciuto Mettete un palligiole Iscrivetevi ragazzi Al canale YouTube Gbr Per non perdere i prossimi video E scaricate l'applicazione Gbr Per non perdere le notifiche Ciao